E' l'enticolare che mi permette di performare con più immagini sovrapposte che rappresentano questo combattimento, perché che ci esprime meglio in questi tempi sono le battaglie a perdere, non vince mai nessuno. E viva l'arte, anzi viva la vita dell'arte. Luigi Antani è un artista che lavora con molti mezzi espressivi, però noi abbiamo deciso di fare una mostra solo sulla sua opera fotografica, questo per dimostrare l'importanza che questo artista ha avuto nella storia dell'arte e soprattutto nella storia della performance. Lui è un artista di una grande creatività e un artista facile e difficile, stesso momento. però c'è un enigma, lo stato, quando si fa qualcosa che diventa prototipo di una data e quindi eccoci qua, probabilmente si può dire è datato, però è dotato o è datato? È disadattato? Viva l'arte!